Lampedusa è una delle isole più belle al mondo, l'abbiamo visitata in lungo in largo e siamo riusciti anche a vedere i delfini. Qui la nostra settimana, mi raccomando, guardatelo fino alla fine. Eh sì, siamo arrivati adesso a Lampedusa, questo sarà uno dei tanti video, magari ne farò due, tre, in questo viaggettino, video vlog, quindi un po' di tutto. Doccetta perché si muore di caldo, ci vediamo dopo. Quindi Francesca, questa Lampedusa, questo primo impatto. Che fame! Abbastanza fame sì Francesca, ma i posti dove mangeremo li vedrete tutti in un video dedicato. Direi che come prima giornata può finire così, fine giornata. Giorno 2, iniziamo la giornata facendo benzina per un bel 2,40 euro al litro, onesto. Benzina fatta, colazione fatta, ora spiaggetta. Ma anche per quanto riguarda le spiagge, vedrete un video dedicato, che uscirà poi più avanti. Eh già. Oggi, Cala Maluk. Grande Francesca, missione ombrellone. Fatta. Fatta. Guardate che opera d'arte. Che opera d'arte. Neanche a Pisa. Notare le differenze, il mio. Quei colori. Che sta. Nuova tappa, nuova spiaggia. Cala? Francese. Cala Francese. Cala Francese. Carina questa. Franzettino tattico veloce. Grazie. Qui è Cala Francese, poi tuffettino perché si muore di caldo. Già. Ci vediamo dopo per l'aperitivo. Andiamo a fare l'aperitivo dopo? Non entri? Sì che entro. Andiamo a fare l'aperitivo dopo? Sì, certo. Dove andiamo? Ci vediamo per l'aperitivo. Ultima spiaggetta di oggi, Cala Pulcino. No, questo è il cazzo è. Non è vero, non è vero. Ah beh, è sempre un uccello. Cala uccello. Come ha fatto a non entrarmi in testa? Iniziamo a farci le ossa per venerdì. Che ci sarà da fare la camminata per andare alla spiaggia dei conigli. E lì altro che due discesine del cavolo. Ci sarà da sudare. Ah, così. Quando entri ti dà una beccata. E se tu non lo frequentare, altrimenti... Da quando? Due reazioni diverse. Che bello, amore. No, Marti, stai attenta. Sì, l'uccello, sì. Gritti la relazione contorta con l'uccello. Entri? Molto distante da quel coso. Che guidatore! Che guidatore! Che guidatore! Mamma che capelli! Aperitivo stasera. Romantico. In un posto top. Posto top. Bello. Ma cos'è Martina? Siamo in una sagra di paese. Hai visto... Alla spartana, ma secondo me si mangia stra bene. Si mangerà bene? Parole grosse qua. Qua volano parole grosse. A parte qualcuno che ha già iniziato a mangiare. Guardate che bei biettini. Questo mi ispira tantissimo. Bravo grittone. Ho sparato a caso? Ho fatto danno. E quindi... Niente. Fine giornata. Martedì. Nuvoloso. Stamattina andiamo al porto a prendere il pesce. Per stasera. Perché faremo una mangiatina. Prima però colazioncina. Vero Francesca? Sì, sì. Spesa fatta. Vedrete stasera che cenettina. Oggi giornata abbastanza noiosa. Però ci rifacciamo con una bella cenetta. Gli attrezzi sono quelli che sono. Una bella tartarina di gamberino rosa. Con borrata, scorza di limone. E basta? Perché c'era solo quello. Poi vi faccio vedere tutto. Cioè ma guarda che tavolina. Guarda che tavolina che faccio. Francesca, cosa faccio? Guarda. Molto bravo. Buon appetito. Oggi è la griglia qua, non c'era. Quindi... Tartar e poi tonno. Tattacchi. 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 Grande fra. Non devi fare il botto però. Devi fare... Psss. Auguri. Eh. Auguri. Guarda che ha preso il braccio. Dobbiamo fare certi. Auguri. Auguri. Buon anno. Che poi manchiamo. Veloci, veloci. Troppo. No, non mi baglia. Non c'è la metamorfosi. assaggia dimmi se è buono costa 3 euro alla copp, non è che puoi pretendere salute 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 anche a voi buoni questi 3 euro della madonna buono e in teoria c'era anche un piatto di gamberi rossi ma è andato via troppo velocemente vi lascio vi lascio la foto grazie martina per l'aiuto è abbastanza sazi per oggi adesso giochiamo questo gioco da tavolo che è fantastico si chiama squillo non ve lo mostro ma potete capire il genere tanta roba quindi fine giornata mercoledì oggi iniziamo la giornata con una roba buonissima ho mangiato una specie di brioche con ricotta scaglie cioccolato cioè una cosa fotonica anche bella caldina è il video non c'è e dopo questa abbondantissima colazione e aver preso qualche pasticcino per oggi a mezzogiorno che poi vi farò vedere spiaggettina un paio d'ore e via faccio vedere giusto il mare ci vediamo dopo ciao pausa pranzo con il tonno avanzato ieri oggi facciamo una bella pasta col tonno col tonno col tonno col tonno e dopo la pasta col tonno post pranzo cala creta che stanchezza dopo di questo fine giornata giovedì ma in che senso dopo questo fantastico giro in barca stasera aperitivo nel punto più a sud d'europa va che posticino va che posticino è arrivato anche il taglierino e qualcuno non mi fa filmare perché sta già mangiando guardate la prova tramonto dopo questa super mangiata direi che possiamo ritirarci fine giornata venerdì l'obiettivo di oggi è fare colazione mangiare e non fare un cazzo in spiaggia andremo all'isola dei conigli prima però stamattina cala croce un po' follatina per i miei gusti però beh tanto dobbiamo stare qua solamente un paio d'ore poi andiamo in rosticceria due arancini mangiamo a casa non ho ancora mangiato un arancino da quando sono qua male male stiamo aspettando voi la mattina lì era andata un po' fuori di testa ancora il marito aveva portata sempre il solito scusami niente era andata da un anno di messa è facile è facile scendere poi vediamo oggi alle 7 a venire su gritti va che bella vista da qua dove è di qui o di là? di qua di là? di là ah no di qua si dai guardate già da qui che vista che vista giornata finita anche oggi andiamo a fare l'aperitivo quindi questi conigli bellissimi conigli pochi però lì sono bella questa è la situazione quasi arrivati alla fine sono distrutto ho bisogno di una sprizza dove ti porto gritti? dove ti porto? spero che non mi chiedi di sposarmi mi sa che qui è abbastanza pettinato come ristorante noi non siamo pettinati perché usiamo i caschi ok ho già capito che mi piellano stasera entra di benvenuto e non abbiamo ancora ordinato paga franci? paga franci ma che posticino francesca ma dove ti porto? ma dove ti porto? ma dove ti porto? dove mi porti amò? iniziamo con la tartarina gritti? tartarina no no però uguale alla tua maglia no è più scuro vabbè ci vediamo a fine cena ciao quindi questa cena gourmet cosa vuoi sapere da me? niente è finita la giornata è finita la giornata? no fine giornata fine giornata grazie sabato oggi è l'ultimo giorno oggi passeremo la mattinata qui a mar morto due due non uno due quindi solite due clip facciarvi vedere il mare e basta e oggi pomeriggio andremo a fare l'escursione serale siiii dove francesca non vedrà i delfini no no io prenotati pausa pranzo dolce è tutto amore vado a due ecco i là ciao mare mio ma quanto sei detto ah ah sonario prova ultrasoddisfatta quindi grittone abbiamo visto eh tre tre delfini eh due sette perché uno era fitto due balene due balene due copponelli che che non fosse un drago forse era Yoshi che è quello che spara fuoco forse era Yoshi di Mario Tart che aveva preso la di quello che spara fuoco non so non lo so non glielo ho chiesto mi cazzo non ce l'aveva quindi secondo me ma forse forse è quello che spara fuoco non lo so ci sto uno due tre oi salute tutte giro in barca serale super approvato giornata in barca o meglio serata in barca superlativa son distrutto birretta e fine giornata e fine giornata salute ultimo giorno ultimo giorno in spiaggetta che non vedrete mai perché non abbiamo fatto sostanzialmente un cazzo ora ora baligia e ciao salutiamo Lampedusa ciao ciao Lampedusa ultimi momenti qui sull'isola è finita anche questa vacanza tutto pronto gara francesca è finito cosa si dice in questi casi fine lieto fine ci vediamo al prossimo video ciao